Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, oggi non siamo in trasferta, oggi siamo nello studio e oggi dobbiamo assolutamente iniziare a parlare di Juventus Fiorentina perché today is the day, match day, si gioca contro la viola sono tranquillo? No, per niente, lo dico proprio tranquillamente ma l'ho detto anche nella conferenza stampa di ieri ho qualche preoccupazione, diverse preoccupazioni non sono per niente tranquillo e ho paura che si possa tendere a sottovalutare questa gara che si possa sopravvalutare invece il risultato acquisito all'andata che potrebbe farci giocare più tranquilli io non sono di questa idea, secondo me il risultato dell'andata è sì importante perché dà la possibilità di avere due risultati su tre se ben ricordo tra l'altro c'è ancora la regola del gol fuori casa che vale doppio in Coppa Italia quindi aver segnato a Firenze è sicuramente positivo ma ho paura che si scenda in campo con l'idea, la consapevolezza di dire sai, questa è la classica partita in cui posso anche non dare il 100% noi in questo momento non abbiamo la possibilità di non dare il 100% noi in questo momento siamo una squadra che se non va oltre, se non va a superare i propri limiti probabilmente lo prende dove non batte il sole, lì di dietro e quindi noi non possiamo assolutamente avere la possibilità di fare dei conti preventivi di addormentarci pensando che sì, l'avevamo battuta la Fiorentina e quindi la partita che andremo a fare? No stamattina si devono essere svegliati con il fuoco negli occhi e dico anche sotto il sedere perché è vero che ci sono diverse voci che vanno verso la direzione Allegri è un quadriennale, Allegri è ben salto sulla panchina della Juventus io queste cose ve le ripeto, assolutamente così ma l'altro giorno vi ho fatto un'ipotesi vi ho dato due strade tra cui la Juventus potrà scegliere e in un appunto c'è l'esonero di Massimiliano Allegri al termine della stagione nonostante il contratto, nonostante gli anni, nonostante la fiducia nonostante tutte quelle cose che sappiamo, lo sappiamo, è così vi invito a andare a rivedere e ve lo lascio qui sopra nelle schede oggi però dobbiamo fare finta che oggi facciamo un gioco un vero e proprio gioco perché io ve lo dico, ne ho parlato anche un pochino ieri in apertura della conferenza stampa ma per quanto mi riguarda se io respiro a pieni polmoni, quello che sta accadendo la Juventus da una decina di giorni a questa parte sento puzza di strano non so se sono l'unico a sentire puzza di strano è una situazione particolare, quella della Juventus di oggi e vi dico anche il perché per farlo però dobbiamo tornare all'anno scorso o all'anno prima ancora parliamo dell'anno scorso quando durante un derby, un Juventus Torino Andrea Agnelli si ritrova a guardare la partita insieme a Massimiliano Allegri quando la Juventus era allenata da Andrea Pirlo invece loro si ritrovano a Forte dei Marmi nell'abitazione privata di Agnelli e alla fine anche a risposta alla domanda disse no vabbè abbiamo le case vicine ci siamo trovati lì, ci siamo guardati la partita io da lì ho iniziato a costruire il castello andiamo indietro praticamente di un anno eravamo intorno al 25 di aprile mi sa una roba del genere e vi dico signori per quanto mi riguarda l'allenatore della Juventus l'anno prossimo non sarà Andrea Pirlo per quanto mi riguarda l'allenatore della Juventus sarà Massimiliano Allegri e per far sì che Massimiliano Allegri possa essere l'allenatore della Juventus deve succedere qualcosa all'interno della società deve uscire una figura ingombrante come quella di Fabio Paratici che all'epoca si era esposta per allontanare Massimiliano Allegri non dimenticatevi mai che la Juventus è composta da persone un'azienda, ogni azienda è composta da persone e queste persone hanno dei rapporti interpersonali tra di loro quindi posso dirti semplicemente io con te non ci lavoro perché abbiamo già lavorato in passato questo, questo e questo lo so, sembrano bambinate perché per quanto mi riguarda lo sono ma quando arrivano a scontrarsi ideologie proprio differenti, filosofie, pensieri o comunque quando il buco comunque nel pantalone ci hai messo il dito dentro è diventato ancora più grosso a un certo punto si ottiene un punto di non ritorno è come quando rompi un piatto mille pezzettini poi questi pezzettini li rimetti insieme ci metti la colla, l'atta che si riforma il piatto certo ma le crepe sono rimaste perché qualcosa che si era rotto poi non può riaggiustarsi magicamente questa penso che sia una figura retorica anche perfetta per descrivere un po' quello che è stato Massimiliano Allegri da Juventus quindi il piatto dove in cinque anni abbiamo fatto cinque scudetti dove abbiamo fatto degli ottimi percorsi in Europa dove abbiamo vinto delle Coppe Italia delle Supercoppe e quindi il piatto era perfetto poi si è rotto con questi due anni di separazione e l'Allegri di quest'anno è lo stesso identico piatto perché è lo stesso Allegri ma con delle crepe io l'altro giorno mi parlavo di ruggine oggi vi parlo di crepe per farvi capire che non è la stessa cosa che avevamo vissuto con Massimiliano Allegri ed è sotto gli occhi di tutti però vi dico domanda ripadisco questo è un video tutto sul facciamo finta che però una domanda ve la voglio fare una domanda da stupido che faccio quindi la risposta potrebbe anche essere banale ma l'anno scorso secondo voi Andrea Agnelli non riusciva a non farsi beccare traduco io sono Andrea Agnelli presidente della Juventus guardo la partita a Forte dei Marmi nella mia casa privata con Allegri davvero non c'è possibilità che io riesca a farla franca senza che l'opinione pubblica venga a sapere che io ho guardato la partita con Allegri che è l'ex allenatore della Juventus con il quale un'amicizia salda storica in un anno in cui la Juventus è in difficoltà e dove appunto sembra anche plausibile l'allontanamento di Paratici che è la figura che potrebbe impedire il ritorno di Allegri alla Juventus io l'anno scorso non sapevo come prenderla questa cosa e ho scelto la via più semplice perché tante volte fare dei giri è la via più semplice la cosa più scontata e cioè la Juve sta andando male Pirlo potrebbe essere esonerato Agnelli essendo presidente tra Juventus comunque a potere decisionale lo staff dirigenziale sta cambiando Allegri comunque senza squadra questi sono tutti pezzi del puzzle e allora la risposta semplice è sta sondando il terreno per capire la disponibilità di Massimiliano Allegri e tornare alla Juventus il fatto che sia uscita la notizia tutti fossero a conoscenza del fatto che appunto si fossero trovati forti nei marmi non voglio fare il complottista non voglio mettere l'itto nella piega non voglio nemmeno parlare di corruzione e robe del genere perché non è questo il caso ma siamo sicuri che si sia fatto beccare? traduco quando si vuole raggiungere uno scopo nel mondo in cui viviamo si chiede aiuto alla stampa amica e cioè la notizia che non doveva trappelare perché ehi la Juve è nata da Pirlo ed è in difficoltà invece fammela trappelare fai in modo che quindi io vi dico per quanto mi riguarda l'anno scorso non è stato Agnelli o Ligri sono stati poco furbi c'è stata intenzionalità nel diffondere quella notizia per un motivo si voleva preparare la tifoseria al fatto che a fine anno si sarebbe cambiato allenatore ma la stessa cosa con Sarri arrivati verso il termine della stagione che va bene c'era il covid e tutte queste cose ma quanti nomi abbiamo sentito per l'allenatore in casa Juve quanti punto interrogativo una marea quest'anno quanti ne stiamo sentendo l'anno scorso quanti ne abbiamo sentiti e comunque la filosofia del tifoso di voler cambiare allenatore c'era con Allegri l'ultima volta c'era con Sarri c'era con Pirlo e c'era con Allegri ancora quindi non è il tifoso che dato che è scontento la stampa i giornalisti vogliono nutrire i sogni degli scontenti con dei titoloni in prima pagina della serie si cambia allenatore si è fatto negli anni precedenti non si è fatto in questo l'anno scorso addirittura era trappelata questa informazione e allora io vi dico è normale secondo voi cerchiamo di mettere che la Juventus di punto in bianco dal niente nel giro di dieci anni dieci anni non è un lasso di tempo breve è una decade è un pezzo di vita dieci anni dopo dieci anni di punto in bianco la Juventus riporta Del Piero allo stadium Del Piero continua a rimanere nella continassa a fare le foto con i calciatori poi c'è questo piccolo indizio social se vogliamo che avrebbe lasciato un like a Del Piero torna in società che poi è rimosso io queste cose faccio un po' fatica a considerarle indizi io sui social faccio veramente fatica a vederci qualcosa legato appunto al calciomercato se vogliamo chiamarlo così tutto il resto però è particolare è quello che dicevo prima si respira un'aria strana non voglio metterci dentro il tweet di Lapo perché come vi ho già spiegato ieri per quanto mi riguarda Lapo è un tifoso della Juventus qualcuno mi diceva sì però è il fratello di quello che detiene le quote di Exor sì ma se mio papà ha una ditta di termoidraulica io sono il figlio non è che posso avere delle possibilità di esprimere opinioni su quella roba lì anche perché ne sono totalmente ignorante e quindi Lapo in teoria meno che non mi stia sbagliando non ha nemmeno quote societarie né di Exor né di Juventus in caso contrario allora magari fatemi sapere io mi sono informato ho guardato anche sul wikipedia di Lapo non ci accenno a questa cosa si parla della famiglia Elkan e di John Elkan non di Lapo poi magari mi sbaglierò ma se vogliamo mettiamolo nel calderone perché è particolare pure questo è particolare pure questo per la Juventus e allora io ve lo ripeto come ve l'ho detta da inizio video facciamo finta che ci sono tutte queste cose sul tavolo tutte queste e per collegarle tutte servono altri due indizi uno si chiama Super Lega uno si chiama Dio di Alessandro Del Piero qual è il punto comune tra queste due cose ce n'è uno solo Andrea Agnelli perché lo ricorderete bene quando appunto dieci anni fa Alessandro Del Piero lasciava la Juventus c'era questa diattriba no? inerente al tifo del perché Juventus non volesse trattenere Del Piero dobbiamo aggiungere una piccola leggenda metropolitana dove Juventus scusate dove Del Piero dice io avrei firmato in bianco per continuare avrei lasciato inserire la cifra loro non hanno voluto e come dicevamo prima il potere decisionale lo ha in parte anche Andrea Agnelli e questa leggenda metropolitana voleva che Ad Agnelli non fosse andato proprio a genio queste dichiarazioni del Piero ancora una volta a mezzo stampa perché ribadisco la stampa riesce sempre a influenzare l'opinione pubblica come la stessa cosa che faccio io perché volenti non volenti noi content creator abbiamo una forte influenza sul pubblico e quindi Del Piero furbo per mandare il messaggio direttamente alla Juventus ma renderlo pubblico cosa fa? parlo con la stampa dico avrei firmato il contratto in bianco mi metto nella posizione favorevole agli occhi dei tifosi e metto nella posizione sfavorevole Andrea Agnelli mi sembra una cosa logica e coerente con il mondo in cui viviamo ragazzi non prendiamoci in giro cioè funziona così lo sappiamo non è niente di scandaloso dirlo perché è un segreto di pulcinella diciamo così e quindi c'è questa leggenda metropolitana secondo la quale Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli non siano proprio super amici e allora vi dico questa l'anno scorso per la Superlega io vi dissi non sarei stupito di vedere Andrea Agnelli abbandonare la carica di presidente della Juventus perché a un certo punto quando si renderà conto eventualmente di aver già dato tutto quello che poteva dare alla Juventus ci sta anche semplicemente dire mi faccio da parte ho fatto il presidente della Juventus per 12 anni mi pare che sia questo il dodicesimo anno di presidenza lascio a qualcun altro e chi se non il simbolo di Juventinità per eccellenza poiché da qui Del Piero posso avere le competenze per fare il presidente vi dico assolutamente no non l'ha mai fatto non l'ha mai studiato per fare questa cosa ma sarebbe un presidente di facciata non dimentichiamoci lo ribadisco sempre che la Juventus non è di Agnelli è della famiglia Agnelli è sostenuta da Exor che è di Elkar quindi ancora una volta tutto in famiglia ma non è Andrea Agnelli che prende tutte le decisioni poi il potere decisionale c'è per forza uno schema piramidale Agnelli è il capo ma non è che decide lui tutto e anzi all'epoca della Dio di Allegri lo stesso Agnelli ci aveva detto io non prendo tutte le decisioni io monitoro giudico valuto lascio delego voi siete le persone addette dovete prendere queste decisioni poi io devo tirare delle somme devo raccogliere delle conclusioni e allora vi dico stiamo parlando del niente perché stiamo parlando del niente ma questo continuo chiacchiericcio l'atto del Piero questa possibilità che comunque qualcosa si possa muovere ma soprattutto questo fatto che non escano notizie inerenti agli altri allenatori che ti fa pensare al 100% che rimarrà Massimiliano Allegri e questo è un pensiero penso condiviso da tanti seguendo la logica del come si fa se fai un progetto di 4 anni con un allenatore a cambiarlo al primo anno utile e allora vi dico c'è una sola possibilità come vi ho detto l'altro giorno esonerare Massimiliano Allegri e allontanare la classe dirigenziale che ha scelto Massimiliano Allegri perché se no non si può nel momento in cui invece cambia la dirigenza ecco che potrebbero esserci altri piani e potrebbero venire fuori altri allenatori e perché non c'è l'interesse oggi di far uscire nomi di altri allenatori perché poi l'allenatore nuovo verrebbe semplicemente scelto dalla classe dirigenziale nuova e quindi ad oggi alla stampa non sono ancora stati dati in pasto dei nomi perché intanto dei nomi non ci possono essere perché non sappiamo ancora come sarà eventualmente la nuova classe dirigenziale della Juventus e in seconda battuta perché il presidente Andrea Agnelli o comunque la Juventus non hanno interesse in questo momento a far uscire altri nomi perché dovesse rimanere così la Juventus si andrebbe semplicemente avanti con Massimiliano Allegri riguardisco so che sono tanti concetti sono tanti punti messi lì io ho semplicemente preso la penna e ho iniziato ad unirli tutti viene fuori qualcosa di verosimile per quanto mi riguarda sì poi sono curioso di sapere la vostra opinione scusate ci ho messo un attimo a fare il riassunto generale ma io sento un po' io la respiro quest'aria particolare perché arrivati a questo punto della stagione tutti gli anni avevamo delle notizie più certe sul fatto che qualcosa sarebbe cambiato in panchina qualcosa sarebbe cambiato lì invece adesso abbiamo del silenzio perché non parla nessuno e qualche spolveratina di qua e di là di cose un po' particolari fatemi sapere anche la vostra e ditemi se secondo voi può corrispondere a verità oppure no noi ci vediamo ovviamente stasera con il calcio giocato non queste congetture non queste illazioni particolari è una parte che preferisco è sempre quella di analizzare la partita speriamo di una Juventus vincitrice perché ribadisco io sono molto teso perché ho molta paura è un po' particolare Grazie a tutti.